Per noia o per accimolare i soldi per compresi quello che desiderano, il fronte dello spaccio arruola sempre più giovani pusher. I carabinieri hanno pizzicato a Barbarano Vicentino, un 14enne con 28 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 115 euro in contanti. Il ragazzino, residente nel vicino comune di Castegnero, era in giro a piedi per Barbarano, a ridosso dell'orario di coprifuoco. La cosa ha evidentemente insospettito i militari che da tempo stanno monitorando il fenomeno di giovanissimi spacciatori e piccole bande. Riportato a casa nella stanza del ragazzino hanno rinvenuto anche vari semi sempre di marijuana. Il 14enne è affidato ai genitori e è stato denunciato alla procura dei minori di Venezia.